L'indirizzo CAT ti porterà ad acquisire le principali competenze richieste dal mercato delle costruzioni. Il percorso prevede il tradizionale indirizzo CAT, costruzione ambiente e territorio, ex geometra, con la curvatura design e red urbano o con l'opzione tecnologie del legno nelle costruzioni, TLC. Acquisirei competenze riguardo a rilievi topografici architettonici, progettazione urbanistica, architettonica e strutturale, stima dei beni, gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare, coordinamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma non è tutto. Noi abbiamo una crescente attenzione al design, agli aspetti di biocompatibilità, all'utilizzo dei materiali ecosostenibili come il legno, che registra da anni un fortissimo sviluppo nel settore dell'edilizia. Nel tuo percorso avrai a disposizione innovativi spazi laboratoriali e una strumentazione di ultima generazione, come la progettazione BIM, droni e GPS per il rilevo digitale del territorio. Guarda il tuo futuro. Iscriviti all'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio.